Ben trovati con lo spazio a cura di meteocalabria.net. Ad un martedì ancora decisamente caldo seguirà un indebolimento dell'anticiclone nordafricano per via di correnti più fresche in ingresso da Ponente, le quali riporteranno le temperature più o meno nelle medie del periodo. Martedì 17. Poco nuvoloso su Tirrenica di Interne, sereno sulle Ioniche. Alla sera notte, nuvolosità in aumento sui litorali occidentali. Qui saranno possibili piogge localizzate. Venti moderati di Ponente con rinforzi sulle coste Tirrenica e sulle pede montane orientali. Mari tendenti a divenire tutti mossi. Temperatura ancora molto calda alle ore diurne, poi in calo dalla sera di iniziare dal versante di Ponente. Per mercoledì 18 agosto ci attendiamo il ritorno a temperature in media e maggiore nuvolosità sulle Tirreniche e sul Medio Alto Ionio, principalmente dal tardo pomeriggio, quando in queste aree non escludiamo locali fenomeni. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.